buongiorno mamma buongiorno allo allora dove stiamo andando adesso andiamo a vedere di un po di pilastrelle pila non è se piastrelle se proprio piere piere allora il giardino se non sporco di pia ancora per cui dovevo cominciare a fare un pezzettino alla volta un fiare qua un fiare assalto come una cavaretta di qua idea comunque cose facili che so in grado di fare insomma che mi sento in grado di fare ecco i legati pietri francesi adesso mi non so quantità grandezza se un po misto e gratis per cui se c'è pacchi arriva e buonanotte e dopo ve le faccio vedere invece domani mattina c'è un altro signore che ha una marmeria e che ha tanti avanzi dei tocchetti di marmo tipo piastrelle quello che ti metti fuori sul giardino tutti i tipi tutti i colori ritrovarsi art attacca insomma e ora quella invece potrei mettere fuori sul tocchetto dove che ho chiuso per far stare i cani insomma e dopo vi faccio vedere anche domani intanto dopo vi faccio vedere quelli di oggi e domani vi faccio vedere quelli di domani va bene mamma quanto ti ha vinto ieri 8 euro nel motore 8 euro dei grattini va bene va bene ma non bobby bellissimo va bene ciao ragazzi buona giornata ciao ciao